Capitolo 9 E Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne alla sua città. Ed ecco gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico, Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Ed ecco alcuni degli scribi dissero dentro di sé, costui bestemmia. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Perché? Che cos'è più facile dire, i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire, levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furon prese da timore, e glorificarono il Dio, che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco della gabella, e gli disse, Seguimi. Ed egli, levatosi, lo seguì. Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco molti pubblicani e peccatori vennero, e si misero a tavola con Gesù e con suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse, Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate, e imparate che cosa significhi voglio misricordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora, gli si accostarono i discepoli di Giovanni, e gli dissero, Perché noi ed i farisei digiuniamo, ed i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro, Gli amici dello sposo, possono essi far cordoglio, finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Orni uno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppur si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande, e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano. Mentre gli diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga accostatosi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse, La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la mano su lei, ed ella vivrà. E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli. Ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da dodici anni accostarsi per di dietro, gli toccò il lembo della veste. Perché diceva fra sé, Sol chi o tocchi la sua veste, sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutala, disse, Sta di monanimo, figliuola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto, e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro, Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. E si ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò, e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo, Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide. E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro, Credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero, Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi, dicendo, Siavi fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo, Guardate che nienuno lo sappia. Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Or, come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si maravigliarono dicendo, Mai non si è vista cosa tale in Israele. Ma i farisei dicevano, Egli caccia i demoni, per l'aiuto del principe dei demoni. E Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, insegnandone le loro sinagoge, e predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le turbe, nebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore, che non hanno pastore. Allora Egli disse ai Suoi discepoli, Bene è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signor della messe, che spinga degli operai nella sua messe.